Cambia la tua vita con la comunicazione, o meglio, la comunicazione è vita. Per questo, attraverso la comunicazione, puoi cambiare la tua vita. In questo video ti spiego come e perché. Iniziamo da comunicare per essere, che è la filosofia che ispira il mio metodo, oltre che il nome del mio podcast, comunicare per essere. Tu non puoi essere nella vita se non comunicando. Ogni essere umano, in ogni istante, comunica con se stesso, con il mondo, attraverso i pensieri, le parole, le azioni, il sentimento. Tutto l'universo umano è fatto di comunicazione. La comunicazione è ciò che ti permette di essere nel mondo. Sei tu che concretizzi te stesso. Per questo, la comunicazione ti permette di trasformare la tua vita. Più la tua comunicazione corrisponde al tuo essere, più tu puoi rinforzarti, migliorarti e evolvere quanto vuoi, più puoi migliorare la tua vita, più puoi cambiare le cose. È vero che la comunicazione è legata ai modelli interiori. I modelli interiori sono legati a degli schemi mentali che derivano dalle tue esperienze di vita, dall'incontro tra il tuo essere, la vita, da come lo hai decodificato ogni evento, da come lo hai interpretato. A volte lo facciamo nel modo giusto, a volte in un modo che sembra giusto, ma non lo è tanto per la nostra vita. E come lo capisci? Dai risultati. Se non sei abbastanza felice, se non sei soddisfatto, se ti sembra che puoi fare qualcosa di più, se ci sono relazioni conflittuali, se ami una persona eppure la fai soffrire, se ti sembra che ti ami eppure ti fa soffrire, se vai a lavorare e non trovi la giusta carica e la giusta energia, se non sei neanche sicuro che quello che stai facendo è giusto per te. Tutto è comunicazione. Come puoi capire? Se stai comunicando te stesso nel modo migliore, al massimo valore, dai risultati dentro di te e fuori di te. Basta ascoltarsi con attenzione e lo possiamo capire. Perciò, se ti rendi conto che c'è qualcosa che non va, allora sappi che puoi trasformarlo e fare in modo che sia per te positivo e di grande soddisfazione e realizzazione. E questo puoi farlo orientando la tua comunicazione e facendo in modo che ti corrisponda. Ti sintetizzerò? Il percorso è la strada, ma se ancora non lo conosci, iscriviti al mio podcast Comunicare per Essere. Ci sono migliaia di puntate, centinaia di ore di lavoro che ho messo a disposizione gratuitamente di ogni persona che voglia autoliberarsi nella massima espressione di se stessa. Perché è così che tu puoi essere più felice nei tuoi panni, nella tua vita e puoi creare valore. In questo video ti darò alcuni spunti, quelli principali, ma ognuno di questi argomenti l'ho affrontato e approfondito molto nel mio podcast. Quindi se ti interessa vai nel mio blog annarosapacini.com e troverai tanto altro. Primo, cerca di capire chi sei, un conosci te stesso vero, profondo, un riconoscere ogni tuo aspetto, ogni tua caratteristica da apprezzare e da amare, anche quelle che vorresti trasformare. La migliore evoluzione è quella che rispetta la tua natura. Sei una persona introversa, vuoi comunicare di più, vuoi comunicare meglio, puoi farlo rispettando la tua natura, quindi mettendo delle caratteristiche che ti appartengono di riflessione, di ponderazione nella tua estroversione. Sei una persona extroversa che agisce troppo di impulso, vorresti calibrare meglio le tue risposte, puoi farlo rispettando la tua natura, dando spazio a quella energia che ti appartiene. Ognuno di noi può aggiungere a se stesso quello che desidera, laddove vuoi migliorare, ma il miglior risultato che puoi ottenere, lo puoi ottenere rispettando la tua natura. Quindi il primo step è conosci te stesso profondamente, riconosci ogni tua caratteristica. Il secondo è cerca di capire in che modo la vita che hai fatto, le relazioni che hai incontrato ti hanno influenzato, se positivamente, se negativamente, quando, quanto, perché. E questo non per pensare al passato come un problema, ma per usare la tua storia per cambiare il tuo presente e il tuo futuro. Alla fine è oggi, è in questo momento che decidi chi vuoi essere e che futuro vuoi creare. E il percorso che inizierai adesso, in questo momento, ti porterà là dove vuoi andare, se sai come orientare la tua vita. Ognuno di noi può essere uno straordinario pilota. Tu sei il capitano della tua vita, tu guidi sull'oceano della vita che percorrerai. La tua nave è se sei tu che scegli la rutta. Più conosci le tue abilità, più conosci gli strumenti di cui disponi, più fantastico sarà il viaggio che tu potrai fare. È per questo che la tua storia ti serve per capire in che modo l'hai vissuta, come ti ha influenzato. Ma alla fine puoi cambiare ogni aspetto di te stesso in modo evolutivo, proprio decidendo di modificare gli schemi mentali, i comportamenti, gli atteggiamenti, comunicando quello che sei. Ogni tua vocazione, ogni tua aspirazione, ogni attitudine intellettiva, temperamentale, può trasformarsi in qualcosa di bello nella tua vita. Il ruolo fondamentale della comunicazione è proprio questo. Ti permette di essere nel mondo. Permette anche di comunicare con te stesso nel modo migliore. E quindi, quando i tuoi pensieri ti producono sofferenza, vuol dire che puoi migliorarli. Quando le tue azioni non ti portano a raggiungere i tuoi obiettivi, vuol dire che puoi migliorarle. Se c'è una situazione che ti crea delle difficoltà, non la devi vedere come un impedimento alla tua realizzazione, come un segnale che non ce la fai. È il contrario. Ti dice che c'è qualcosa che puoi fare meglio. Devi prestargli attenzione e poi andare avanti e progredire. Per questo la comunicazione invita tutto quello che porti nel mondo, tutto quello che realizzi nel mondo, tutto quello che crei in te stesso, viene dalla comunicazione. Comunicare per essere è la visione di una comunicazione che non è una tecnica, non è uno strumento, ma è la massima espressione dell'essere umano nella vita. E l'augurio che ti faccio è che tu trovi il tuo vocabolario personale, che tu sappia tracciare la mappa migliore per te e possa veramente essere ed esprimerti nel mondo, in tutta la tua grandezza. Se questi video ti piacciono ti raccomando di iscriverti, commenta, mi fa molto piacere sapere quello che vi interessa, quindi iscrivimi anche se ci sono argomenti che vuoi che io tratti. Ti ringrazio di avermi seguito e ti aspetto al prossimo video. Ciao ciao!